Buonasera, eccoci qui con l'ultima edizione del telegiornale della 7 e allora sono risaliti i contagi nel nostro paese, quasi 22.000 oggi sono salite anche le vittime, 221, ma preoccupano anche gli altri indicatori come le terapie intensive e il numero dei ricoveri. Per l'Istituto superiore di sanità, l'incidenza del virus è in crescita in tutto il paese e il tracciamento è diventato praticamente impossibile da fare. Parte del mondo scientifico evoca il lockdown. RT, indice di trasmissibilità superiore all'1 in tutte le regioni, continua progressione nei numeri dei positivi e dei ricoveri, tracciamento ormai impossibile. Il quadro della pandemia di coronavirus nel nostro paese viene delineato da Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che analizza anche gli ultimi dati sui nuovi contagi diffusi da Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute. I positivi nelle ultime 24 ore sono stati 22.000, con un aumento di 5.000 casi rispetto a ieri, ma con un numero di tamponi nettamente superiore. Oggi quasi 175.000. I decessi continuano ad aumentare, oggi sono stati 221, mentre aumenta anche la pressione sulle strutture ospedaliere, con altri 127 pazienti entrati in terapia intensiva. Questa volta, dicono sia Rezza che Brusaferro, nessuna regione esente dai contagi. La più colpita resta la Lombardia, con oltre 5.000 nuovi casi, poi Piemonte e Campania, ma Val d'Aosta, Rigure e Umbria sono quelle con più casi in rapporto al numero di abitanti. Cresce l'età media dei contagiati, risalita a 51 anni, in estate era di 30 e sale anche il numero dei positivi tra gli over 70, la fascia di età più a rischio. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto ristori, quasi 7 miliardi per le categorie colpite dalle ultime restrizioni, quindi ristorazione, bar, discoteche, cinema, teatri entro 20 giorni avranno rimborsi dal 100 al 400% al fondo perduto, con le modalità del decreto rilancio, ma non solo. Arriveranno in automatico nel conto corrente a novembre i primi pagamenti. Conferenza stampa congiunta del Premier Conte, Ministri Gualtieri e Patuanelli. Il decreto ristori è pronto e i nuovi aiuti si baseranno su quelli già ricevuti con il decreto rilancio. L'importo verrà raddoppiato, in alcuni casi più che raddoppiato. Il coefficiente sarà il 150, il 200 fino a 400%. Un piccolo bar che aveva avuto 2.000 euro potrà riceverne tre per fare un solo esempio. La nuova pioggia di indennizi vale 5 miliardi e 4 in termini di indebitamento netto. Ci sono aiuti diretti ma molto di più. Si amplia la fascia delle aziende che verranno aiutate. Verrà raddoppiato il contributo per gli affitti. Sospensione dei contributi previdenziali dell'Imu in scadenza il 16 dicembre. 6 nuove settimane di cassa integrazione. Inoltre indennità specifica per i lavoratori dello spettacolo e del turismo. Due mensilità in più di reddito d'emergenza. Sostegno allo sport. Importanti misure per alberghi e taxi. 100 milioni per il settore agricolo. Infine misure per incrementare la fornitura di 2 milioni di tamponi antigenici rapidi e per aumentare il contact tracing e ulteriori risorse per la didattica a distanza. E non si placano le tensioni politiche sull'ultimo DPCM. Oltre agli attacchi delle opposizioni anche nella maggioranza si registrano delle polemiche. Matteo Renzi continua a chiedere modifiche al decreto e torna ad attaccare. Non siamo yes men. Chiediamo modifiche. Il leader di Italia Viva è molto critico sulla chiusura di cinema e teatri e gli orari didotti per i ristoranti. La risposta del premier è molto esplicita circa i continui rilievi di Italia Viva. Il distinguo del giorno dopo dice francamente mi sorprendono. Il DPCM è quello. In prospettiva se vengono elaborate strategie diverse e benissimo ne parliamo ma è facile fare da contrapunto. A tutte queste tensioni si cerca di trovare una soluzione nel corso di una riunione di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i capigruppo della coalizione in tarda serata. Intanto in Francia la rete televisiva BFM ha anticipato che il paese entrerà da giovedì a mezzanotte in lockdown nazionale. La misura dovrebbe essere annunciata domani ai francesi dal presidente Macron durante il discorso alla nazione. Ricordiamo che in Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 33 mila contagi e 523 in vittime. Cambiamo decisamente argomento per il calcio nella Juventus. Non ci sodà domani sera Cristiano Ronaldo nella sfida di Champions contro il Barcellona. CR7 è ancora positivo al Covid e dunque salta il confronto con il suo rivale storico Lionel Messi. Stasera invece Inter e Atalanta si sono dovuti accontentare di un pareggio. Inter e Atalanta limitano i danni nel loro secondo impegno nei gironi di Champions ottenendo un punto ciascuna e non senza qualche rammarico. Ma ora è la squadra di Conte a rischiare di più in virtù dello 0-0 ottenuto sul campo di uno Shakhtar Donetsk di mezzo. Anche sfortunati gli uomini di Conte nel vedersi respingere per due volte dalla traversa le conclusioni di Barella prima e Lukaku poi. Non pervenuto quasi invece l'argentino Lautaro che a inizio ripresa ha sprecato la più nitida delle palle gol spedendo a lato da due passi la corta respinta del portiere avversario sul bel tiro di Brozovic. Un pareggio che proietta solitario lo Shakhtar in testa alla classifica del gruppo B con due punti di vantaggio sull'Inter e sul Borussia Mönchengladbach che ha costretto sul 2-2 il convalescente Real Madrid sempre fanalino di coda. Con lo stesso risultato la Ajax ha inchiodato l'Atalanta all'esordio ufficiali in Europa nel suo stadio. Partita iniziatasi sul contatto in area tra Sapata e il portiere Onana non sanzionato dall'arbitro sloveno Scomina. Atalanta volenterosa ma sterile nel suo possesso è andata sotto sul calcio di rigore concesso per un gioco pericoloso di Gosens su Traoré e trasformato dal serbo Tadic. Ajax spietato dieci minuti dopo quando lo stesso Traoré arriva dito in gol una difettosa respinta di Sportiello. Ma dopo un primo tempo anonimo è finalmente salito in cattedra Duvan Sapata che nello spazio di sei minuti ha raddrizzato la partita raccogliendo di testa sul palo più lontano il perfetto cross del Papu Gomez mettendosi poi in proprio nell'irresistibile volata conclusa con un destro di inaudita violenza. Ma a differenza dell'Inter il pari finale consente all'Atalanta di tenere lontano proprio l'Ajax in classifica attestandosi a quota 4 a due lunghezze dalla capolista Liverpool. È tutto, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento.